Il circo l'articolo è orgoglioso di aver presentato questi ragazzi che sono veramente bravi. Si chiamano Rasenna Brasse, questo dice tutto, vogliono essere toscani e aretini, etruschi. E sono non solo esecutori ma sono anche gli arrangiatori delle musiche che fanno. Al circo l'artistico di Arezzo domenica 13 maggio è andato in scena il concerto del quintetto a retino di Ottoni, Rasenna Brasse. Ci sono brani di Mussoschi, la famosa promenade fatta con la tromba, fra l'altro la Maria Rossi ha debuttato in questo complesso, ha suonato per la prima volta, bravissima, e poi la Carmen di Bise, ma anche nel blu di tinte di blu, e anche New York e New York e anche la ragazza di Palema. Insomma un programma veramente per tutti che onora la nostra città perché alcuni di loro hanno fatto il nostro liceo musicale del quale andiamo sempre orgogliosi. Musica Musica